Lo scenario Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate. Serata sobria, area familiare, tanti amici e giovani volenterosi che hanno ricevuto gli attestati del progetto We Station Cilento da un bando benessere giovani della regione Campania in cui il comune di Castellabate, l'assessorato alle politiche giovanili, l'associazione Visionaire e altre realtà territoriali, Cilentomania, Legambiente e Castellabate, Associazione Ieri, Oggi e Domani, CESAP, hanno attivato corsi formativi per giovani, finalizzati all'avvio di forme di autoimpiego. Il progetto, partito nel 2018, si è collocato al nono posto della graduatoria regionale. Attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, i ragazzi si sono cimentati nella produzione di inchieste, cortometraggi, sitcom, reportage, documentari, costruzione app riprese subacquee per raccontare, valorizzare e promuovere il territorio con creatività ed inventiva. We Station Cilento è stato realizzato presso la sala multifunzionale di aggregazione giovanile Don Felice Fiero di San Marco di Castellabate e proprio ieri i giovani cilentani hanno ricevuto il meritato riconoscimento mostrando al pubblico un documentario che racchiude il lavoro svolto.